Possessione demoniaca e malattie psichiche. Quindi un documentario su un esorcismo. Dietro la Torino fredda, la volatrice, razionale. Esiste un'altra, nascosta e inquietante. Avete sicuramente sentito parlare di culti demoniaci di sette. Credete a queste cose? Esistono delle entità oscure, demoni. Aspettano soltanto che qualcuno avrà loro la porta dell'esistenza. Poi ti entrano dentro e ti soffocano la ragione. E tutto questo può cominciare così. Come un gioco. Primo, il patto col diavolo. Secondo, la casa del diavolo. E terzo, il vestito del diavolo. Nella speranza che durante le riprese spunti fuori un demonio. Il LACARPE Grazie a tutti.